Con l'arrivo della stagione estiva i camerieri si confermano tra le figure professionali più ricercate, con quasi 60.000 profili nel mese di giugno. Un numero questo, come rileva l'ufficio studi di Fipe Confcommercio, destinato a raggiungere le 137.000 unità nel trimestre giugno-agosto. Tra le figure stagionali più ambite seguono poi i cuochi, con 22.000 assunzioni previste, e infine i baristi, con quasi 20.000 posti da coprire. Dei 430.000 contratti di lavoro offerti dal settore terziario nel mese scorso, oltre un milione se si considera il trimestre giugno-agosto, la maggior parte proviene dal turismo, con 160.000 assunzioni previste. Di queste, oltre il 75% riguardano i servizi di ristorazione, che arrivano a oltre 275.200 nel trimestre, un dato dovuto sia all'avvio delle imprese stagionali che all'intensificazione dell'attività legata al turismo. Il 77% delle assunzioni avverrà tramite contratti a tempo determinato, mentre l'8% a tempo indeterminato, mentre la restante parte delle collaborazioni sarà regolata con l'apprendistato e altre tipologie contrattuali.